Il Consiglio provinciale domani potrà approvare il bilancio previsionale 2017 con oltre nove mesi di ritardo e senza poter ancora uscire dalla crisi economica e di identità legata alla riforma del Rio, legge 56 del 2014, che ha ridotto le funzioni e le risorse. Il presidente Davide Viola ha adottato lo schema di bilancio autorizzatorio per il 2017, ma a mero titolo conoscitivo e formale per il 2018-19, dato che in corso Vittorio Emanuele II non è possibile redigere previsioni vere e proprie per i prossimi due anni. La navigazione a vista non è affatto conclusa. Se il 2017 chiuderà in pareggio con 97 milioni e 559 mila euro, sia in entrata che in uscita, nei prossimi due anni ancora non si sa con quali soldi l'ente provincia onorerà il prelievo forzoso di 21 milioni e 494 mila euro previsto dallo Stato, che già quest'anno ha richiesto per il contributo di finanza pubblica ben 17 milioni di euro e mezzo per la stabilità dei conti pubblici nazionali. Le previsioni a titolo conoscitivo del prossimo biennio consentono però il riscaldamento delle scuole superiori, la manutenzione delle strade, lo sgombero neve e altre funzioni fondamentali. Il 24 agosto il deficit era di 2 milioni 597 mila euro sulle solo funzioni fondamentali. Il 21 la conferenza Stato-Città ha stabilito i criteri con cui ripartire i 100 milioni che lo Stato ha destinato a province e città metropolitane per sanare gli squilibri di bilancio. Cremona ha ricevuto 1 milione e 818 mila euro, ne mancano 779 mila, tuttavia l'amministrazione conta di recuperare maggiori entrate rispetto al previsto e conta così di concludere l'anno con un avanzo di 50 mila euro. L'ente provincia si prepara a pagare il prezzo di tutte le riforme tagliasprechi, ad esempio 8 mila euro in meno per le autovetture di servizio, 36 mila in meno per consulenze e collaborazioni, 726 mila per il taglio del costo della politica, oltre alle riduzioni di risorse pubbliche che tolgono fondi alla provincia, il cui bilancio è diventato così ormai meno consistente di quello dello stesso comune di Cremona. Il consiglio provinciale di domani alle 17.30 dovrà inoltre rivedere l'elenco delle società partecipate dopo le limitazioni imposte dal decreto Madia. Malgrado la necessità di una politica territoriale per il rilancio economico, l'ente provincia ancora non può veder chiaro nel proprio immediato futuro.